ciao come stai? ciao tutto bene tu come stai? bene ragazze come ti chiami? io mi chiamo Ellie a.k.a. Ellie Costino da dove nasce questo nome? allora è il modo in cui mi hanno sempre chiamata e non credevo tanto nell'idea di avere un vero e proprio nome d'arte preferisco portare quello che sono io quindi anche nel nome di cosa tratta il tuo progetto musicale faccio rap improntato al tema sociale politico in particolare sul femminismo che è il tema che mi sta più a cuore ho iniziato a scrivere canzoni all'età più o meno di 11 12 anni e poi ho continuato a rappare un po più seriamente più o meno cinque anni e da dove prendi ispirazione? dalle cose che mi succedono che mi fanno incazzare o mi fanno emozionare in un modo positivo negativo e dalla musica dai beat che ascolto dai libri dallo studio tanto e di cosa trattano le tue canzoni? ma diversi temi perché nel senso della più classica l'appartenenza al quartiere io sono di lingotto tra l'altro salutiamo lingotto state of mind e a cose anche più specifiche come l'aborto oppure il vaticano ho fatto un pezzo contro il vaticano vtcn if you know you know femminismo l'industria dei diamanti abbiamo fatto una canzone con una sister su donne che che sono state messe in galera o hanno arrestiato insomma la galera per i loro ideali tra l'altro parliamo appunto di carola racchete e di donna nicoletta del notav quindi sempre notav durante la creazione di un testo com'è il flusso creativo per arrivare ad un testo completo? allora di solito parto dal ragionamento quindi da quello che voglio trasmettere il messaggio generale a meno che non sia un testo più tecnico una roba più stile freestyle e cose del genere e di solito parto appunto dal viaggio dal tema poi cerco di svilupparlo di dargli un inizio e una fine e mentre scrivo crea anche gli incastri quindi anche un metrica comunque sento il beat che mi accompagna e ci scrivo su non sembro cattiva non lo metto durare tu fai scena si sentiga sembra tu faccia draghe se parli di cose di cui sarebbe meglio tracere chi parla parla poi si sa tanto non sono vere pensa alla musica non solamente a nai dai nel mio quartiere se ci vieni finisci nei guai ho una voce in testa che mi dice che tu crei anche i beat o ti fai dare la mano da qualcuno? non ancora lo farò sicuramente solo che in questo momento non avrò il tempo e quindi sì a parte DJ Bonno ovviamente è il mio produttore che mi fa di beat anche collaboro con altri DJ e producer da cui Toma Enzi di Milano DJ Fast Cut di Roma sto collaborando anche con un artista francese che si chiama Saffarina anche lui per i beat poi King Mauras ovviamente tanta roba tanti pezzi emotivi e potenti dalle nostre collaborazioni e poi adesso sono in contatto con un sacco di altre realtà qui sul torinese lo spoiler arriveranno i progetti. Quindi tendenzialmente prima crei il testo e poi cerchi una base da associarsi o viceversa? Prima la base sì sì prima assolutamente la base fino a poco tempo fa quando comunque collaboravo con molte meno persone mi capitava di avere di trovare un type beat su YouTube e poi di prendere un mood simile di un altro beat e mi è capitato un sacco di volte che questa cosa fosse mega funzionale perché riscrivevo un testo su una mood tipo su una canzone mega aggressive di Eminem e cose e poi usciva bene invece associato a un beat più funk un pochino più swag e veniva molto bene però di base il mio goal è scrivere sul beat perché posso adattare proprio il sound anche delle parole alla musica e secondo me meglio. pensi anche la parte melodica delle canzoni oltre alle metriche? Sì i ritornelli a volte le faccio cantati comunque mi piace non avere proprio formazione musicale però mi è sempre piaciuto anche cantare alla fine l'ho sempre solo fatto però mi piace tanto. Qual è il produttore che ti dà una mano proprio in fase di stesura e chiusura dei pezzi? Sicuramente Bonno mi aiuta un sacco dal punto di vista creativo poi mi piace quando andiamo giù però è una cosa che si autoalimenta nel senso lavoro un po' da sola il produttore lavoro un po' da solo poi ci incontriamo magari facciamo cose insieme ci sono diversi ritmi il lavoro perché purtroppo molte di queste persone sono lontane e quindi insomma però comunque assolutamente big up a DJ Bonno che veramente non so neanche cosa dire talmente tante sarebbero le cose che potrei dire lui è assolutamente un mentore e ringrazio sempre ogni giorno dell'opportunità e insomma adesso abbiamo trovato un buon compromesso di lavoro appunto siccome lui comunque è lontano molte cose le faccio qui e poi insomma lui lavora le perfeziona ogni quanto più di vedete più o meno una volta al mese anche di meno in realtà perché il periodo del lavoro dell'università poi lui ha un sacco di progetti in ballo quindi molte volte magari facciamo una session lunga di due tre giorni bam proprio dove mettiamo appunto tutto il lavoro fatto fino a quel periodo e insomma però prima c'è ovviamente c'è tanto lavoro anche a casa e insomma delle salaprove degli studi anche qua come vi siete incontrati te Bonno? allora praticamente ho partecipato al suo contest in onore della raccolta ai pop top joints e lui metteva a disposizione i sui beat e si poteva non scegliere e scriverci sopra e pubblicare e io ho pubblicato ovviamente sul beat DRM Confidential che è una canzone totale e ovviamente Bonno si è preso bene mi ha scritto subito mi ricordo la prima telefonata io ero tipo morta non ci credo che sta succedendo davvero questa cosa e abbiamo parlato ovviamente abbiamo subito capito che avremmo tutto da lavorare bene insieme andare d'accordo perché avevamo tutte queste idee su tutto e da lì è nata la collaborazione abbiamo fatto uscire qualche singolo e poi abbiamo parlato dell'album e adesso è pronto il mio gioiellino il nostro gioiellino la mia idea è continuare a lottare per queste idee le mie idee le tue idee le sue idee donne che cambiano il mondo con delle idee la mia idea è che sono solo donne ma appaiono idee la mia idea è che sono solo donne ma appaiono idee il lunedì 3 giugno 2019 caro le partita per salvare le persone che scelzerò la via del mare con un gommone a rischio della vita per cercarne una migliore la mia idea è che il fuoco collabora con le ONG è partita al comando della Sea-Watch 3 recupera i migranti ma non possono affrettare Salvini ha chiuso i porti due settimane in mare nonostante abbia dichiarato stato di emergenza non puoi segnare l'anima a chi c'è nato senza e il 29 giugno il caro l'anno sarà che se non fa qualcosa qualcuno morirà i giornali si scattano foda senza pietà decide che a traccare è un obbligo di umanità nonostante dal resto i giorni domiciliari è un vero capitano in lotta per i suoi ideali delle idee fai parte di una crew? si faccio parte di una crew siamo alle 3 E adesso si sta allargando tra l'altro perché ci sono sempre più ragazze che stiamo facendo progetti i membri della mia crew per adesso sono Giga e Betta Giga è di Siena e Betta è delle valli scusa facciamo un sacco di progetti insieme abbiamo cantato in un sacco di post insieme e tra poco appunto usciranno un sacco di canzoni loro e non vedo l'ora tra l'altro Betta ha pubblicato il suo singolo Mono 82 oggi quindi andatevelo a sentire Betta con il 3 e insomma c'è un fit suo sul mio album e due fit di Giga dell'altra ragazza che secondo me è proprio un talento naturale nello scrivere io ho veramente queste due ragazze e anche le altre con cui sto collaborando adesso sono veramente stupende sono dei geni e io spero che tra poco saremmo una scena unita femminile perché in questo momento comunque la scena femminile non è tanto unita si tende a dissarti a vicenda c'è un po' questa mentalità e quindi noi vogliamo costruire invece una scena unita che fa così insieme che alla fine vince quali sono i tuoi riferimenti musicali? assalti frontali assalti frontali assalti frontali always nel cuore assalti frontali always nel cuore allora sicuramente Kenny Arcana però nel tempo ne sto dimenticando un sacco Fifty, Snoop, Italiani Clevergold, Murubutu, Noiz, Fibra, Salmo ovviamente sempre dovendo... sai no? la maggior parte del rap è molto sessista e quindi devi sempre filtrare però per fortuna adesso secondo me un pochino la situa sta migliorando anche col fatto che ci sono sempre più donne nel rap saranno costretti a rispettarci per fortuna anche perché sennò... e ti piace anche lo school italiano? sì 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 mi piace ovviamente il danno, il collo del fomento, super underrated miss simpatia Queen assoluta adesso lo dico, lei è veramente un genio purtroppo in un periodo storico in cui la rap famiglia che andasse più di quel tanto però lei è tanto forte ovviamente ne è ovviamente sangue misto da questa gente, cioè comunque le radici no? so che made buddy ti piace anche subsista? sì è fortissima subsista, lei è proprio leggendaria old school live, concerti, ti piace il rapporto col palco o ti terrorizza? lo adoro, mi piace tantissimo è la mia parte preferita di tutto, tutto è vero forse è anche lo star in studio e creare canzoni però il palco è proprio l'emozione soprattutto quando è un palco che insomma reagisce ai stimoli poi ovvio bisogna essere bravi, bisogna fare tanto tanto allenamento però è bello, è gratificante ti piace di più un momento della sola prova in cui provi oppure il momento sul palco? sul palco, mi piace proprio creare, vedere la gente magari emozionata perché ho scritto una cosa mega struggle, mega depre la gente lì così, oppure quando li fai infottare con un po' di rime secche cattive è bello, è bello cioè si crea tipo un flusso di energia quando qualcosa funziona tra l'altro ho fatto live con un sacco di artisti della scena di Torino e dintorni infatti big up a tutti e non farò nominare tutti però insomma e la cosa che io amo di più è stare sotto il palco mentre gli altri cantano e poi dopo salire c'è troppo figo e qual è il posto che ti ha emozionato di più è difficile perché ne ho fatti un po' nell'ultimo anno penso che tocchiamo la ventina è difficile perché ogni volta l'emozione è nuova ogni volta ci sono persone diverse non vorrei dire una minchiata però forse Milano perché non me l'aspettavo cioè nel senso mi cagavo sotto dicevo minchia magari a Milano non piace la roba conscious così come la faccio io invece il pubblico era assatenato e io ero tipo bella ok lasciatemi qua e lì ho capito perché i rapper vogliono andare a Milano ma in che posto di Milano? ero al barrio locale storico tra l'altro easy one big up a lui che ha organizzato la serata e insomma chiaramente per la coll no è stato strafigo c'era Evarea c'erano un sacco di mostri sacri Long John, Luppolo insomma mi si digitava questa gente qui e sto un diamante quanto pensi che valga un diamante tiene popoli in gabbia un diamante io non penso che valga più di una baracchia o curio un diamante quanto pensi che valga un diamante e tiene popoli in gabbia un diamante un diamante io non penso che valga più di una vita umana diamanti scintillanti rainbow collection se vai da Tiffany sei fashion a forma di cuore 120 carati valgono di più quelli colorati fuori moda se non segui il trend diamonds are a girl's best friend simbolo del lusso rientra nella mente slogan che è stato creato abilmente come mai poi è tutto sto guadagno tutti si chiedono ma come lo fanno dagli scarti all'ubbionale ad amversa dalle piogge stagionali alla ricerca dagli avversi guineani sotto al sole ai prezzi disumani che il mercato vuole se non ce l'hai non vali niente i problemi della classe ambiente un diamante che cosa non deve mai mancare durante un tuo concerto questa è veramente l'acqua 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 è fondamentale se vuoi raggiare un live lungo secondo me proprio devi averla lì hai una scaramanzia prima di salire sul palco due tiri di canna due boh mi asciuga la bocca da punto di vista visivo per te è importante come ci si fesse su un palco le visual piuttosto che le luci allora io ti dico onestamente ho fatto concerti veramente tanto tanto underground ultimamente e quindi cioè allora sì te lo dico concettualmente sì ovvio nei posti in cui sei illuminato bene che c'è il palco alto è molto più bello è molto più figo però alla fine regalano emozioni anche i contesti qui ho suonato tipo veramente underground qua venau abbiamo suonato su e non avevano il cavo rca capito e non mi hanno detto io gli ho detto porto il computer cosa devo fare no no porto la chiavetta tranquilla e loro non avevano il cavo per collegare il loro computer capito e quindi abbiamo suonato con una cassa bluetooth attaccata a un microfono così davanti che mandava la musica nell'impianto ed è stato figo ugualmente ovviamente è illuminato malissimo però strafigo c'è il sito è così underground oppure abbiamo suonato i giardini reali mi aveva piovuto da poco c'era una pozza di fango davanti al palco e ovviamente la gente non andava sotto però noi perché siamo calde così siamo scese giù solo che poi ci siamo accorti che c'era sta cazzo di pozza e abbiamo letteralmente cantato nella cazzo di cosa cioè ti giuro provavi a saltare e non riuscivi tipo le scarpe tanto così scorte di fango però anche quei contesti assurdi alla fine regalano un sacco di emozioni no? cioè ti temprano domanda jolly lockdown a te è servito per sviluppare maggiormente il tuo potuto musicale o ti ha fatto deprivare? tutte e due ma è stato molto utile cioè nel senso ho trovato tante tante ispirazione nel lockdown perché chiaramente le emozioni forti ti danno quella roba lì di creatività e quindi sì in generale mi è servito un sacco però è stato anche peso a livello emotivo non lo vorrei fare di nuovo ecco mi ho un po' traumatizzata cioè e comunque sento ancora gli strasci che li vedo nelle persone cioè proprio siamo diventati diversi secondo me social li usi? non li usi? li odi? allora non li odio no li uso con i miei limiti perché chiaramente dovrei usarli di più lo so però mi impegno comunque nel mio piccolo c'ho video ho fatto un bel po' di video dove giro per Torino presa diretta proprio così però con un telefono buono me le fa un mio amico cassa trappate comunque viene bene adesso poi ricordo un po' anche più sterile sempre contenuti più i contenuti più quella roba lì però ogni tanto vabbè posto musica posto foto ovviamente le info dei live e tutto anche un canale telegram dove appunto metto solo gli aggiornamenti dei live e le cose videoclip quindi stai ne stai presentando qualcuno come che ti approcci alla questione c'è uno in cantiere che è quello di una canzone molto importante dell'album non dirò qual è uno spoiler è in cantiere abbiamo girato la prima parte hai anche in cantiere un album? si sapere uscire se tutto va bene dovremmo avere la conferma entro domani dovrebbe uscire andrà 17 giorni 18 giorni il 10 di giugno per che etichetta uscirà il disco? bono music ovviamente vuoi lasciare i riferimenti social? chiamo elli cottino scritto ellie così su tutti i social sia instagram che facebook che canale telegram dove metto gli aggiornamenti sulle date tre artisti che bisogna assolutamente conoscere kenny arcana number one proprio cioè se non l'hai mai sentita sentila protege che è un cantante reggae devastante lady le sure merito praticamente ci sta molte grazie della della tua partecipazione a presto ciao ciao grazie a te ciao 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 ciao